Chi potrebbe mai immaginare che sotto questi stracci ti nascondano due dei nostri migliori agenti? Hai, direvi! Hai! Due come loro, agenti della CIA Tu vai per la quattrada e io per la mia Per il ciclo botte da ridere Avete licenza di caccia, di pesca, di uccidere Yowah! Ah! Andala! Bud Spencer, Terence Hill Nati con la camicia, giovedì 21.15, Rete 4